eccoci ragazzi un'altra partita eccoci sempre in barcellona prosegue il cammino in questa seconda stagione davvero esatto tra l'altro se erano cinque partite rimaste e si può anche passare in divisione 1 vincano ma è bravo gravo 3-23 sono a 10 punti eccoci per il giroverto io ho più scherzo lento che loro è buono è buono è buono è buono scherzo è un mito si inizia a tirare da centrocampo si si casaccio poi questi hanno gli schemi eh mamma mia tira centrocampo come garbaco non ho capito che significa ma tira anche da lì eh no si mamma mia ho già visto ma questi mi sa che c'hanno solo il quadrato il tondo il secondo come si faccio questi tirano e basta no non vado a male questi hanno i tasti incastrati questi hanno i tasti incastrati sul tiro che scrive e la tira anche da qui no c'è qualcosa non va questi tirano da dovunque tira 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 eh oh tira da lì è buono fa il go è piano è un tiro o un cross? io non lo so ma partito mamma mia ma struncavo eccolo no ragazzi no così ma che fanno questi? guarda alla fine scelta non ho facendo si assicuro assicuro ma così no ho anche il tiro anche Bonucci lì tira bene ma vabbè caricato? no questi sono pazzi questi sono veramente malati di mente ma chi è? mamma mia ma guarda tira questi sono assunti ovunque ma hai visto non sei gente? tiri a cazzo? si no forte a tavolo e vedrai a forse a tirare perché vedrai a palla loro però se tira va se tira va va questo vogliono fare la sfida degli angoli ecco o c'hanno il trucco qua all'angoli stanno dopo un po' questo tira anche qua tira anche con Bonucci no è pazzo no ma non si riesce a portare su palla però se lo dico eh per forza mi fai non continuo eh non bisogna fargli raffigliare eh lo so è dura da fare il nostro gioco tanto ogni palla è tiro o cross va va a vedere eh portali in mezzo è un altro angolo no ragazzi così no vabbè così è bruttissimo ma hai visto una nota di genere ecco ecco guardi schemi guardi no ma neanche ne hai visto la vincere il mondiale ma che serve tra una partita così alla fine segna non è ovunque così no no si si è per forza ma in un senso va 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 eccolo non so non so già spoggiando da diversi minuti alla fine ha fatto capischi stessi di perdere anche tempo da un po' inoltre non ha toccato il suo palazzo è perso ma c'è un po' fai faiiii vieni qui un'azione un gol ti ho detto ma stai un pallido il cappello mi piglia l'ora perchè hai chiesto la pausa questo? lo so no i malati di mente no son malati son malati si si ci hanno andato a cena forse no e son malati ma che devono fare? c'è gente malata si questi si questi sono veramente pazzi un'azione un gol no son grulli questi e comunque ho detto c'inculano alla fine così eh ti preoccupare? eh ma per forza ma ho capito ma ma è una strazzata ora mettono Ronaldo un porte mettono il portiere in attacco ma che fanno? non si sa ma tutto sto tempo e fai che oh? ah? sta pausa incredibile? puoi andare via? no malati 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 ci mancavano comunque malati eh è vero anche malato mancava ci sono ci sono occhi e tiro eh tiri anche da qui o non cambiava gente c'è i miei genitori eh ci sta anche eh che si fa? no ragazzi no vabbè è assurdo è assurdo è assurdo si è veramente posto la palla questo è proprio l'anti calcio l'antifitto occhio se prendi la palla è gol eh lo so è è duro è duro anche tenere la un po' eh 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 oh non lo tira tira su eh la foto è una prova oh fallo 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 no c'è ah da qui dura eh se insegna trovo da qui è posto bella peccato peccato che c'è traverso cavolo l'incrocio mi sta preciso ma vaffanculo eccoci come uno ma guarda questo stronzo guarda questo stronzo oh il tiro per forza qua la tiriamo no 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 la tiriamo la tiriamo si qua no la partiamo si è è è partita eh questa l'ha fatta vedere a tutti la gente di fuori no questo andrebbero bannati ma chi si può tanto si piglia la tua coccosie ma dai eh picchia e meno per forza cross no questa volta è si tracca allora prendi palla no ma come ha fatto a prendermelo non si sa eh palla che rotola via palla che rotola via davvero eccoci vai tiro calcio l'angolo e gol mi ha fatto un passaggio no 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 forse no no si eccolo lì recuperano palla un occhio no Rakitic piqué Ivan Rakitic ehi la bella palla ma ti ho messi no se tu vedi fuori gioco eh 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 l'avevo visto fuori il proiettino si ha fatto vero ecco guarda guarda bello guarda lui no dai no dai non è possibile non è possibile truccaccio no c'è verso no c'è verso c'è verso peggio trucchi cazzo che schifo che c'è che c'è ma chi è il chiacchio del pallone hey wake up chi è oh boh non lo so buona l'inquisizione qui vabbè tiravo non ci credo faccia il culo anche così pur da si e vada questi no vabbè dai assurdo mamma che non è ma queste voci fuori campo che dicevano wake up boh sarà calcio di pulizia per il barza ma che se è ancora ma che se legge ma che dicevano ma che dicevano la mette bene Messi il cross non era male e nessuno ha riuscito ad approfittarne no ha perso il compagno perso il compagno cavolo è riuscito a interrompere se l'è bevuto ha segnato la Juve ripartenza micidial l'attaccante si è presentato solo davanti al quartiere e non ha sbagliato ha sfruttato la perfezione e la chance che gli è capitata Barcellona pronto Andre eh io ci sono che ho messo un bivavoce no 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 giochiamola giochiamola 4 minuti di recupero ha recuperato il pallone senza difficoltà no no sto continuando Paolo Di Bala è meglio da diretta dai perché se esco dal gioco mi sembra che si perde ma come mai c'è Hardy Cloud ci ha fatto sto scherzo oh proviamola ti devo dire proviamoci dai che bello la diretta dai ti metto il telefono vicino al mio microfono vai vediamo il che va in fuori sì no infatti serviva sta partita dopo primo tempo veramente straordinario ora stanno per affrontare la seconda metà la domanda è riusciranno a reggere i ritmi nei primi 40 anni ci ha e c'è inizio che prova a correre Cristiano che ha metri sulla palla arriva a maggio che intervento tempestivo del difensore che si accetta al passaggio ma è sto dire bella si addio ma che base è lui no Ale parla più forte nel telefono perché se non ti sento non mi rompono niente eh ci vedo no no ma è bello bella diretta è bello per questo sì ma questi strumenti hanno fatto dolore però eh lo so approfittando di quello che c'è sì approfittando di quello ci hanno fatto gol eh sì giusto stango palla vagato palla vagato palla vagato oh mamma mia oh mamma mia la domanda è l'inca ma c'è no ancora il tecnico spera che possa ripetersi sugli stessi livelli bello vieni qua che spettacolo sì sì vieni qua è un'incazione è un'incazione che ha fatto non so materialmente che è successo ma è stato qualcosa fantastico è stato arrivato è arrivato è quello che sa che c'è un trascunzato di tiro a strada vediamo quasi quasi non so se è autogol come si avisce autogol è un'altra cosa quando era questo non deve non c'è la sua guerra partita che torna in equilibrio è un'incazione fantastico io ho preso è buono andiamo abbiamo giocato qui oh madonna se lo lanciavi eh ti aspetta quello che tu guarda ci succede? ah no buono bella bella peccato peccato vai no peccato arrivi l'aiuto facciamo girare il capo cazzo ecco sì anche le pavole oh ma non è mai so scegli ma perché perché quando lo si vede non lo so può metterla in mezzo eccolo cerca il primo palo no per caso cazzo venga mamma mia arretto arretto eh sì sì sono i giovani bello sì bellissimo sì questa partita al di là di tutto purtroppo è saltato l'adio è successo un casino ma sarebbe far vedere che gente malata è c'è a giro bene è una mezzo però riguardare il più nel fuoco capite che risposta ora prima era solo dire e basta a qualsiasi no è che stai ah lo so è il più bello è il più l'altro tentativo io vado là che il lavoro la mette bene dai dai sì no vabbè dai assurdo che assurdità vada e versi vada e versi il portiere no guarda lì fa lotta la vita quello è buona la sua difensore su un brutto passaggio ci sono spazi per il barça lateralmente dai mamma mia dai a fallo sergio boschetto barcellona eccolo ma in qualche modo cambi direi oi non metti di paura ma ora si ma che fa ma che fa anche bloccavano si si è anche bloccavano vai la sua gara termina qui a giudicare dai bispi insomma pubblico non ha gradito effettivamente ci si aspettava di più da lui oggi ti ha visto? no così no però stagio vedremo come sfrutteranno quest'occasione giuau cancello emre chan attenzione di bala eeeh si eeeh eeeh ero fuori giovanetto anche tu dai davvero ha senso unico per te chiarissimo eeeh risultato adesso sul quattro... che dici? si dico bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla 2 senti visto tutto il casino e il successo io sinceramente era una situazione disperata qui potrebbe anche arrivare rosso si tarveli eh è rosso eh si si è rosso ma manca un po' finiamola fuori giovanetto guarda i credi no attento nel recupero bonucci adesso la presa per tutto guarda i culi alla buona per di bala esco eh va vai intanto stoppo